Le ordinanze attuative per il rilancio economico e sociale delle aree Sisma nel 2009-2016 sono state firmate dal commissario alla ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini. Ieri la cabina di coordinamento per la ricostruzione Sisma Centro Italia ha attivato la seconda tranche di interventi del fondo PNRR a sostegno delle zone terremotate. Arriva così il via libera alle misure anche per le imprese. Nasce la prima rete integrata universitaria italiana per la ricerca. Dopo le misure per la digitalizzazione, l'efficienza energetica, la riqualificazione degli immobili pubblici e le infrastrutture per oltre un miliardo di euro è arrivato il via libera della cabina di coordinamento integrata al secondo pacchetto di interventi da 700 milioni di euro. Tra gli interventi previsti, la creazione all'Aquila del Centro di Servizio Civile Nazionale per 60 milioni di euro e la realizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione con un fondo di 20 milioni. Altri grandi progetti riguardano la rigenerazione urbana per 200 milioni di euro, la creazione di centri per il deposito e restauro dei beni culturali per 39,5 milioni, i cammini e gli impianti sportivi con 110 milioni di euro e la riqualificazione delle strade comunali finanziata con 60 milioni di euro. Per il capo della struttura di Missione 2009, Carlo Presenti, le amministrazioni centrali e quelle del territorio soffrono danni di una carenza di competenze tecniche. La Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione prevista all'Aquila dovrà dare un forte contributo a colmare questi vuoti e potrà servire da polo formativo per tutti i funzionari di tutte le amministrazioni dell'Italia centrale. Con le decisioni e le relative ordinanze diamo avvio all'attuazione di tutte le misure del fondo complementare del PNRR destinate ad accompagnare la ricostruzione post-sisma e a favorire lo sviluppo del centro Italia, ha detto Legnini, nel pieno rispetto del cronoprogramma e dei criteri stabiliti dalla legge. È stato un lavoro molto complesso e di squadra, ha dichiarato il commissario, per cui ringrazia anche la struttura dell'Aquila 2009, il Dipartimento di Casa Italia, i presidenti delle quattro regioni, i sindaci e gli uffici speciali regionali. Questo è il piano della speranza della ripartenza del centro Italia.